arriviamo a questo salone del mobile convinti che il tema della sostenibilità sia uno dei temi più trattati più sentiti sia dai visitatori sia dagli espositori para ha costantemente lavorato negli anni su questo tema per poter fornire ai propri clienti prodotti sempre più sostenibili sempre più ecocompatibili abbiamo accettato quindi di partecipare nell'ambito del programma europeo horizon 2020 ad un progetto di ricerca react che è l'acronimo di recycling of acrylic textile con altri partner abbiamo messo a punto un sistema di classificazione raccolta e soprattutto trattamento chimico eliminando a tutti i cascani sostanze di finissaggio e anche quelle sostanze che si depositano per l'uso e per la lunga esposizione farà è oggi in grado di poter presentare una serie di prototipi che sono stati realizzati con questi diversi tessuti abbiamo già presentato a proposte del 2021 una seduta realizzata con il tessuto riciclato a proposte 2022 delle sedute realizzate con tessuti di diverse costruzioni ottenuti sempre da cascame di acrilico tinto pasta però proveniente da diversi stadi del ciclo di produttivo del prodotto acrilico per outdoor e infine a questo salone del mobile una tenda da sole quindi questa tenda da sole che noi stiamo ancora cercando di caratterizzare per essere certi della qualità sta però dando dei risultati eccellenti praticamente confrontabili con le prestazioni di un tessuto per protezione solare realizzata con Fibercritica Vergine